Quest'oggi parliamo della paura, delle fobie, di tutte quelle che avete e di come poter evitarle. In sostanza, perché faccio questo video? Ritengo davvero importante per le persone superare le loro paure, perché sono stata una persona che ha avuto molte paure e molte di queste erano, appunto, invalidanti. Una di queste era senz'altro quella di comunicare agli altri, di aprirmi agli altri. È una persona molto introversa, soffrivo molto di balbuzie e per me veramente era un enorme scoglio. Cercheremo di capire se è possibile combattere le paure, risolvere, vincere le paure. Di solito si parla di superare le paure. Quindi, innanzitutto, andremo a cercare di capire che cos'è la paura, cercare di definirla anche rispetto a quello che è, diciamo, nel mondo della psicologia. Ci sono dei video bellissimi e dettagliatissimi, magari vi lascio dei video su cui mi sono anche un po' informato sull'argomento. Davanti a un video mi sono sempre sentito molto molto imbarazzato. Ero uno di quei bambini che, quando gli volevo fare una foto, proprio mi nascondevo, mi arrabbiavo, non mi piaceva assolutamente, mi vergognavo molto. Ci sono delle paure primitive, primordiali, che sono sostanzialmente la paura di cadere e la paura dei rumori forti. Potremmo aggiungerne altre, chiaramente. E, diciamo, le paure primarie, quelle che sono legate alla nostra sopravvivenza. Queste paure sono belle, positive, è ottimo aver paura quando questo ci porta a evitare di ammazzarci. Ad esempio, se io ho paura di andare a 180 l'ora sull'autostrada, molto più probabile che non faccia un incidente. teoria. E questa paura mi può salvare la vita. Stessa cosa, appunto, se io sento un rumore forte, mi allontano e dopo esplode qualcosa, il fatto che ho avuto paura di quel rumore mi ha fatto salvare, mi ha fatto scappare. Quindi, diciamo, la paura di per sé è una cosa perfetta, ce l'abbiamo dentro, è una cosa imprescindibile. Il vero problema, quando si parla della paura, invece, sono tutta quella serie di paure inventate, indotte o dai genitori o dalla cultura o da brutte esperienze personali che ci impediscono di fare delle cose molto importanti nella vita. Ci sono due comportamenti fondamentali dell'uomo davanti alla paura. Uno è quello dell'evitamento, quindi evitare la paura stessa. Negli esempi che abbiamo fatto prima, non vado al mare, non vado dove c'è uno specchio d'acqua, sicuramente non annego e quindi giro intorno alla mia paura, la evito. L'altro è quella di affrontarla, quindi magari vado al lago, mi metto quattro ciambelle, due braccioli, il giubbotto e anche quella di Baywatch, non so, vi ricordate, David Esloff, no? Comunque, insomma, e affronto, vado dentro magari fino alle caviglie, tutto bardato così e pian pianino cerco di affrontare quella paura. Non c'è dubbio, qua non c'è una discussione accademica in corso. E' così. Sostanzialmente, se tu eviti la paura, la paura aumenta, diventa sempre più grande e può anche diventare patologica. Perché chiaramente il fatto che tu continui ad evitare quella cosa è come se giustificasse, come se creasse intorno una vera motivazione quando magari era partita da una normale paura affrontabilissima. L'altra soluzione è quella di affrontare la paura, quindi qualsiasi essa sia, trovare un modo graduale e, diciamo, personale anche chiaramente di approcciarsi alla paura, quindi fare in modo che tutti i giorni della tua vita tu possa affrontarla. Perché fare questo? Perché uno è un masopista? No! Fare questo ci porta senz'altro a una grande autostima, perché ci dà la percezione che molte idee, che anche se ci sembrano radicate a livello proprio di sentimento, in realtà si possono semplicemente cambiare, rivoluzionando la percezione che noi abbiamo di questa. Quindi, in sostanza, tu prendi la paura che ti invalida di più, che ti toglie di più, e quella affrontala, devi trovare un modo tuo per affrontarla. Chiaramente non puoi pensare di vincerla da un giorno all'altro, ma bisogna dire che ogni qualvolta tu riuscirai a fare un passo in questa direzione, sicuramente riuscirai a diventare più coraggioso. E quindi fallo, semplice. Allora ragazzi, vi racconto la mia breve esperienza, parlando della mia più grande passione al momento. E non sto parlando né della musica, né della scultura, né della pittura, né del videomaking, né di tutto questo, ma dello snowboard e della montagna. Quando va di montagna sono la persona più felice del mondo. Quando si fa il snowboard ti sembra veramente di volare, sono quelle sensazioni irripetibili, insostituibili, diciamo, nella quotidianità. E questa, appunto, estrema meraviglia deriva in realtà da un'enorme paura, da un terrore che io avevo proprio di questa stessa cosa, e quindi di sciare. Dovete sapere che io sono nato in un piccolo paesino del Trentino, bellino a meno tutto quanto, un po' palloso magari per certi versi, in cui c'è una cultura pazzesca dello sci, quindi tutti i bambinetti, quando sono tre anni, quattro anni, vengono messi sugli sci, fatti andare a sciare a ripetizione, a sette, otto, dieci anni, molti di questi sono nell'agonistica, quindi è uno sport che è molto sentito, chiaramente. Io invece in famiglia non ho mai avuto questa cultura dello sci, i miei non hanno mai sciato, quindi praticamente io ne ho sempre avuto un po' paura. Successe che un giorno ci invitarono, tra virgolette, una di queste giornate sulla scuola, con la scuola, in cui era praticamente gratuito, la scuola ti portava su col pulmino, tu andavi a fare la giornata sulla neve, no? L'idea ci piaceva, siamo andati, abbiamo anche noleggiato questi sci, io e un mio amico, anche lui, stessa situazione, non aveva mai provato, gli faceva abbastanza paura, abbiamo preso per gioco. Quando siamo arrivati su, il posto ovviamente è meraviglioso, c'è chi non è mai andato lì, dico, ma ragazzi, non c'è. A parte questo, appena siamo arrivati su, abbiamo visto tutti, insomma, si sono messi i loro sci, sono partiti, noi ci avviciniamo pian pianino, arriviamo al costone, questo, tra l'altro, la neve era abbastanza dura e ghiacciata, che per noi sembrava veramente verticale, era una cosa terrorizzante, cioè non c'era nessuna possibilità, in quel momento, dentro di me pensavi, di andare giù da quella costa lì, con gli sci ai piedi, quindi se mi staccava subito gli sci, no, 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 io non vado, rimanemmo, insomma, a morare tutto il giorno, con questo tubio, nel senso che, da una parte ci ripetavamo, ci ripettevamo che a noi non ci interessava, sci, ma sì, ma che per me non piace neanche la montagna, dall'altra parte però ci rodeva un po' il culo, perché eravamo lì, vedevamo addirittura, non so, dei vecchietti, no, che a spazzaneve ci passavano davanti, noi lì, grandi e grossi, avevamo questo terrore, gli altri che si divertivano, facciavano i salti, si raccontavano le varie cose, e noi lì, e noi lì, insomma, morale, alle tre e mezza, non ce la feci più, non so cosa scattò in me, e dici, adesso devo andare, allora, dici, Francesco, andiamo, prendiamo, e facciamo l'ultima pista, andiamo alla corriera, bene, partiamo, ovviamente, ci facciamo malissimo, però, mi ricordo che anche ci divertivamo, si rideva, quando si cadeva, e quant'altro, facciamo un po' forza l'uno con l'altro, e però, mi ricordo che questi momenti di terrore, in cui perdevi proprio il controllo dello sci, ti buttavi in terra, sperando di fermarti, prima o poi, dopo la realtà, appunto, ci si ferma sempre, e sbagliamo strada, ovviamente, quindi, alle quattro e mezza, dove, quando era previsto il rendezvous, con tutta l'altra comitiva, noi non c'eravamo, hanno aspettato un'ora, allertando i carabinieri, che ci cercavano, con i gatti delle nevi, insomma, noi dove un po' arriviamo a piedi, ci sotterrano, ovviamente, di insulti, giustamente, anche, per mesi dopo, lo zimbello della scuola, siamo diventati, insomma, una leggenda per questa cosa, e nonostante questo, quel coraggio, che riuscii a trovare, quindi, a decidermi, finalmente, di affrontare quel muro, feci in modo, che io poi andai ancora, e ancora, e ancora, e ancora, diventai un buono scettore, niente di eccesso, e adesso, un buono snowboardista, snowboarder, come si diceva all'inglese, e quindi, questo per dire ragazzi, che non importa, che aspetto abbia, il muro di ghiaccio, della tua paura, è sempre comunque, un muro di ghiaccio, ed è terrorizzante, sia per me, che per te, quindi, non importa, che lo fai subito, però sappi, che non c'è altro modo, prima o poi, tu dovrai metterti, davanti a quel muro, e dovrai in qualche modo, scenderlo, e affrontarlo, se lo farai, diventerà un'esperienza, fantastica per te, e ti si aprirà un mondo, come è successo per me, quindi, auguro a tutti, innanzitutto, di andare in montagna, e provare lo snowboard, o gli sci, come preferite, e, mettere un iscriviti, al canale, mettere la campanellina, mettere i like, mettere i commenti, cioè, praticamente, partecipare, fammi sapere, la tua esperienza, per la paura, se sei più tendente, ad evitarla, oppure tendente, ad affrontarla, e, nei vari casi, dimmi, qual è il risultato, la percezione, che hai di te stesso, e, se il video ti è piaciuto, seguimi, e ci vediamo, mercoledì prossimo, se tutto va bene, con un altro video, di rivoluzione di parole.